A un certo punto c'è stata un'onda improvvisa e quindi inaspettata, pensavamo che l'acqua salisse leggermente e poi con lo spazio che c'era davanti alla piazza Davi non pensavamo che nel giro di pochissimo tempo ci arrivasse alla vita l'acqua, c'era uno sfogo talmente alto, ma nel giro di veramente 30-40 secondi avevamo l'acqua alla vita, impressionante è stata la cosa, non c'è mai stata una cosa del genere, infatti eravamo tutti tranquilli qui agli orti, non c'è mai stata la preoccupazione, mezz'ora prima eravamo tutti sulla piazza della chiesa a parlare.